Come ti chiami? Gaetano Russo Quanti anni hai? 64, qualcuno dice 156, viste le ore di lavoro Dove vivi? Torre del Greco Cosa hai mangiato a colazione? Caffè e calmezzo Cosa vedi fuori dalla tua finestra? Serre, tutta serre Mostrami il tuo miglior sorriso Biologico, integrato o tradizionale? Tradizionale Hai animali? Sì, un cane Pecora, mucca o maiale? Pecora Imite il suo verso? Beh Mare, campagna o montagna? Dove vai in vacanza? Montagna, mare